Ciao a tutti ragazzi e bentornati su X-Wing Academy eccoci qua con un nuovo video del venerdì e questo venerdì io volevo andare a completare la questione Wave 9 visto che sono usciti i nuovi spoiler delle navi ovvero abbiamo sia lo Shadowcaster che il Protector Air Starfighter la settimana scorsa avevamo visto un po' le navi ribelli imperiali ma devo dire che queste navi scam ragazzi sono veramente molto 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 intriganti e come sempre vedrete vicino a me le carte io andrei subito a vedere un po' cosa ci hanno spoilerato dello Starfighter piccolino ragazzi andiamo un po' a vedere qualche carta rileggiamoci Ferrau che era il pilota che avevamo già visto quando attacchi o difendi se una nave nemica è a distanza uno da te vuoi ritirare un dato aggiuntivo in attacco e in difesa 28 punti bellissimo vediamo un po' le altre carte che sono state spoilerate ragazzi il titolo l'avevamo visto mi sembra o comunque lo rileggiamo Concord Down Protector non unico ragazzi un punto quando difendi se tu sei dentro l'arco di fuoco nemico a distanza uno e se l'attaccante è dentro il tuo arco di fuoco quindi se stai così aggiungi un risultato evade aggiungi ragazzi quindi un risultato in più rispetto già ai dati che ti rendi pesa e devo dire che è già simpaticissimo come titolo vediamo un po' poi sono stati spoilerati un po' di piloti ecco il primo PS5 Concord Down Haze 23 punti per avere Elite e Torpedo ragazzi e questo a me già piace veramente tantissimo e devo dire che già un pilota generico a PS5 con Elite a 23 punti che ti mette la possibilità di fare una lista a 4 navi a PS5 con queste caratteristiche già può essere un'idea ma comunque 23 punti non sono tanti per una nave del genere secondo me tutto dipenderà dal dial vediamo un po' abbiamo anche un pilota a PS1 a 20 punti senza Elite Zellus Recruit e poi abbiamo l'altro generico che mi sembra che sia a PS3 eccolo qua il Concord Down Veteran 22 punti quindi 3 piloti generici ragazzi che sono veramente interessanti soprattutto il PS3 che anche lui come vedete ha l'Elite e il PS5 sono veramente molto molto interessanti andiamo a vedere le carte che ci vengono proposte nuove con con questa nave vediamo un po' le carte piccole soprattutto allora no continuiamo con i piloti perché ne mancano anche altri due Old Terok Protector e Starfighter PS7 26 punti con Elite all'inizio della fase di combattimento puoi scegliere una nave amica a distanza 1 se tu sei dentro il suo arco di fuoco lei scarta tutti i focus e gli evade non cominciamo a scandalizzarci perché si è una bellissima abilità ma se ci pensate fa scartare fa danno vero a Fel e a Manaru probabilmente che gli fa buttare tutto quello che prendono per il resto ti toglie un'azione che se tu lo sai potresti prendere un lock visto che magari sai che sta per fare quella determinata manovra e quindi ragazzi potrebbe essere utile come non utile però sicuramente a 26 punti è un pilota particolare che va ad aggiungersi a i piloti con abilità di rimozione che hanno gli scam vediamo un po' Cad Solus PS6 dopo aver eseguito una manovra rossa assegna due focus alla tua nave 25 punti con Elite questo mi piace già di più è un'abilità che ti para dall'effettuare manovre che ti stressano in quanto prendi due focus quando fai una rossa quindi fai doppia azione meglio far sempre una rossa a quel punto ne prendi due invece che uno secondo me è molto interessante questo pilota ad un costo di 25 punti ragazzi e poi abbiamo basta per quanto riguarda i piloti perché l'ultimo che abbiamo visto è Ferrau e ci viene spoilerata una sola carta piccola a questo punto in aggiunta alle altre che si chiama ragazzi adesso ve la trovo e ve la posto qui Fearlessness scamolli un punto è un Elite quando attacchi se tu sei all'interno dell'arco di fuoco del nemico a distanza 1 e se il difensore è all'interno del tuo arco di fuoco puoi aggiungere un Hit al tuo Roll quindi questo è un titolo per questa nave invertito cioè in attacco quando ti trovi così tu aggiungi un Evade tu aggiungi un attacco un risultato Hit in attacco secondo me è interessantissima questa formula e se il Dial lo permette se ci saranno build che lo permettono questo su un Ferrau potrebbe essere devastante e lo potrebbe portare a piazzare 6 Hit dico 6 Hit in un solo attacco ragazzi è la prima volta credo che una nave possa fare 6 Hit se a Ferrau gli diamo gli Advanced Pro da un Torpedo che a distanza 1 tirano 5 bombe e sarà la prima nave che potrà mettere 7 Hit con un attacco se gli diamo anche questo equipaggiamento quindi il gioco secondo me si sta veramente orientando molto di più sul picchia 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 come abbiamo visto con i Jam Master e sta diventando molto picchia 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 perché tutte queste meccaniche di aggiunta di risultati anche in difesa ovviamente però in attacco risultano veramente toste secondo me secondo me questo è un pack veramente ignorantissimo mancava un po' la figura dell'asso nelle liste scam e questo pacco sicuramente se il dial sarà giusto per questa nave sicuramente potremo vedere i primi assi scam ragazzi questo è per quanto riguarda il Protectorate Starfighter adesso ci andiamo a gustare la nave grande degli scam nuova nave grande Shadowcaster arco di fuoco mobile iniziamo a vedere come funziona vediamoci il titolo dopo aver effettuato un attacco che colpisce se il difensore è all'interno del tuo arco di fuoco mobile ed a distanza 1-2 puoi assegnare un Tractor Beam token al difensore tre punti per questo titolo che è messo su una nave a piasse alta abbassa l'agilità di tutti per gli attacchi successivi che può essere molto interessante vediamo un po' Tractor Beam che ci viene ricordato cosa fa ma lo sappiamo tutti puoi spostare la nave e metterla comoda comoda per fargli sparare meglio ancora dagli altri e vediamoci i piloti Ketsu Onio Lancer Class scusate Pursuit Craft questo è il nome della nave a questo punto perché Shadowcaster è il titolo all'inizio della combat phase puoi scegliere una nave a distanza 1 se questa nave è dentro il tuo arco di fuoco primario e il tuo arco di fuoco mobile quindi deve passare in mezzo la linea e lo devi poter vedere da entrambi gli archi assegna un Tractor Beam token cioè questo un simpaticone con il titolo può potenzialmente assegnare due Tractor Beam token che ricordo sono accumulabili quindi dare meno 2 in agilità e quindi far fare Barrier All Boost due volte può essere veramente ignorante ragazzi può essere veramente ignorante vediamo poi quanto costa 38 punti a PS7 Elite Crew e doppio Illicit anche il doppio Illicit darà luogo secondo me a nuove combinazioni di ignoranza ed è un pilota sicuramente simpatico non costa pochi punti per avere 10 punti ferita e difendere a 2 però mi sembra abbastanza interessante l'abilità è abbastanza casuale sarà difficile secondo me farla attivare bene però vediamo Asagi Ventress quindi questa che è un sit mi sembra a me adesso qualche fan mi ammazzerà però io ricordo che è un sit che combatte con due spade dal manico curvo come il Conte Duco Asagi Ventress PS6 37 punti Elite all'inizio della fase di combattimento puoi scegliere una nave a distanza 1-2 se è all'interno del tuo arco di fuoco mobile gli assegni uno stress questa mi piace molto questo già l'ho visto lo spoiler è il pilota che mi piace di più in assoluto di questa nave per ora perché può essere mandata a PS8 ha una sorta di tattico integrato che con un tattico va a mettere due stress a turno e ragazzi non deve essere male per niente mi piace mi piace mi piace abbastanza vedremo un attimo come potrà essere inserita in qualche lista ma mi piace tanto la sua abilità come vedete il girare l'arco di fuoco è un'azione Sub in Vrew questo mi sembra l'avevamo già visto quando difendi contro una nave nemica dentro al tuo arco di fuoco mobile a distanza 1-2 aggiungi un risultato occhio al tuo tiro di dato quindi difendi con due dati più un occhio assicurato Recon Specialist sembra quasi telefonato ma chissà che magari non escono nuove carte però buon Recon Specialist per sicuramente fare un evade a turno più risultati dei dati non è male 35 punti manca l'elite da PS5 ma la rincorsa alla PS alta è terminata secondo me vedremo se adesso con questa wave si tornerà a voler andare di PS alta ma per adesso vedo che si giocano anche navi a PS molto più bassa e vanno benissimo ok vediamo se ci sono altri piloti spoilerati qui ci fanno vedere un po' di cose poi andremo a vedere le crew ragazzi che sono veramente ignorantissime e anche i missiletti nuovi veramente carini e non ci sono altri piloti spoilerati quindi non sappiamo quanto costa il pilota base che potrebbe essere una sorpresa come la fu il contract scout IG88D crew un punto simpaticone tu hai l'abilità di ogni nave amica con l'IG2000 upgrade card in addition quindi in aggiunta alla tua abilità da pilota quindi che significa che se noi giochiamo questa crew IG su Ketsuonio Ketsuonio oltre a fare il gioco di tractor beam prende l'abilità di un IG88A che quindi recca anche uno scudo e questo è per magari rimettere in campo un po' gli IG che sono completamente spariti e ti costringe però a giocare un IG perché devi avere la carta IG2000 da qualche pizzo ma può dar luogo a delle combinazioni molto interessanti e poi costa soltanto un punto ragazzi è da vedere a me mi piace molto su Bosk questa questo tipo qua magari far reccare uno scudo a Bosk che ha 12 ferite non è che mi suona proprio male per un punto visto che Bosk può portare fino a 3 crew su di lui ragazzi può essere molto interessante vedremo come verrà gestita questa crew ma sicuramente è molto bella l'Azrazi quindi il pilota che avevamo sull'YV666 lo abbiamo come crew a 2 punti quando difendi puoi rimuovere uno stress token dall'attaccante e aggiungere un evade al tuo al tuo tiro quindi questa su Asashi Ventress è bello molto bello di stress poi se mi devo difendere lo tolgo e mi prendo un evade automatico madonna meccanica carina veramente interessante ragazzi veramente interessante anche contro assi questo contro assi lo destressi fai solo un favore però in situazioni estreme può essere molto interessante e non male direi non male bellissima crew Ketsuonio all'inizio della fase finale puoi scegliere una nave nemica all'interno del tuo arco di fuoco a distanza 1-2 quella nave non scarta i tractor beam Ketsuonio è tutto organizzato sui tractor beam o farli scartare mi sembra veramente una mossa alquanto scam mettiamola così perché quel tipo il turno dopo avrà ancora a gira ridotta e tu potrai piazzarli magari con il titolo della nave altri tractor beam sopra e poi non li farai riscartare quindi potrebbe essere molto ignorante costa un punto le crew mi sembrano veramente molto molto interessanti vedremo come si collocheranno perché gli scam ottimamente hanno ricevuto parecchie crew tutte molto belle tutte veramente molto molto belle e molto tattiche soprattutto andiamo a vedere un illicit nuovo Rigged Rigged cargo shoot azione scarta questa carta per droppare il cargo token e poi c'è l'immagina che ci fa vedere che praticamente scarichi la mondezza o comunque una roba che hai dentro la nave che sembra un'antasteroide in mezzo al campo chissà come funzionerà vediamo dei nuovi torpedo che sono i seismic torpedo a due punti azione scarta questa carta e scegli un ostacolo a distanza 1-2 all'interno all'interno del tuo arco di fuoco primario ogni nave a distanza 1 dall'ostacolo tira un dato di attacco e subisce un hit on crit in base al risultato dopo rimuovi l'ostacolo quindi questo ti spazza via gli ostacoli dal campo e può anche far danno è la prima nave che lo fa scusate il primo torpedo che fa una cosa del genere ovvero che distrugge gli asteroidi in campo molto intrigante e può servire per far danno alle navi e niente ragazzi per ora finisce qua questo spoiler quindi mancano i due dial di queste navi che secondo me molto dipenderà da come sono i dial devo dire che mi piacciono molto entrambe per ora mi sento più attratto dall'assetto piccolino perché manca una figura di assone gli scam come dicevo ma la nave grande soprattutto le crew della nave grande mi intrigano per sperimentare nuove liste scam devo dire gli scam ultimamente con le crew hanno tirato fuori davvero delle ottime combinazioni come abbiamo visto con i jam master tra Forlom e Boba Fett credo ci siano state delle crew fondamentali uscite Zukus è una crew fortissima ragazzi e niente tutto qua per ora spero che il video vi sia piaciuto ci vediamo settimana prossima con un altro video fatevi sapere voi cosa ne pensate di queste due navi e che aspettiamo come Wave 9 qui in Italia grazie a tutti a settimana prossima un nuovo video grazie a tutti